Nessun dissesto finanziario alla provincia di Foggia, il presidente Francesco Miglio rassicura tutti e delogia le politiche messe in atto dall'ente. Vorrei dare notizia a tutti, ai cittadini della provincia di Foggia, che tra le province lo squilibrio finanziario della provincia di Foggia è fisiologico, dovuto ai tagli che ci sono stati, è di gran lunga inferiore a quelle delle altre province. Siamo l'unica provincia pugliese ad aver rispettato il patto di stabilità, siamo l'unica provincia che ha attuato una politica di razionalizzazione e di rigore della spesa. Mai come questa amministrazione condotta dal sindaco di Sansevero Francesco Miglio, la provincia di Foggia ha centellinato le sue spese, ha razionalizzato il tutto, ha abolito degli sprechi. Credo che su questo versante nessuno può darci lezioni e non le accettiamo da nessuno e vogliamo rassicurare tutti che i nostri conti sono in ordine con una situazione che è chiaramente difficile, ma certamente non provocata da noi, ma da una scelta sbagliata del governo di tagliare i trasferimenti alle province, su cui io spero presto possa avviarsi un'azione di revisione da parte del governo centrale, dando la possibilità a noi, soprattutto rispetto alle funzioni fondamentali strade e scuole, di avere le risorse per poter operare in maniera efficace ed efficiente.